Ben ritrovati in nuova edizione del TV giornale di Telestense, apriremo questo appuntamento parlando ancora della grave crisi del lavoro che sta attraversando la provincia di Ferrara, sono 557 le persone a rischio licenziamento, sentiremo i dettagli appunto nel servizio di apertura. Ma parleremo anche della prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, si terrà alla fine di novembre, coinvolgerà vari enti e associazioni insomma del nostro territorio e quindi andremo a vedere nel dettaglio che cosa è stato presentato in conferenza stampa. Parleremo anche dell'inaugurazione avvenuta appunto nelle ore precedenti della nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ferrara e poi ci occuperemo di spettacoli perché lunedì sarà il grande giorno o meglio la grande serata del concerto di Ligabue al Teatro Comunale di Ferrara. Parleremo anche del gruppo dei Dieci, prende il via la nuova rassegna a tutte le direzioni in full time e proprio questo venerdì ci sarà il primo appuntamento inaugurale. Ci occuperemo anche di iniziative gastronomiche come il Cibo è chi lo fa con la strada dei Vini e dei Sapori ma anche di Cappellacci in centro, iniziativa dedicata ai piatti tipici ferraresi. Vedremo anche dettagli sulle anticipazioni legate alla nuova puntata di Detto Tra Noi e poi spazio allo sport con Ferrara Basque 2018 che soffre ma vince in volata contro Padova 63 a 62. Cominciamo subito parlando dunque della crisi dell'industria a Ferrara che sta vivendo una delle settimane più nere con oltre 550 persone a rischio di licenziamento da due aziende del territorio. Parliamo dunque della Berco e della Regal Rexnord. La politica sta cercando soluzioni per evitare che le due multinazionali portino avanti il piano esuberi prospettato nelle scorse ore. Per i dettagli vediamo il servizio. Sono 557 i lavoratori che nel ferrarese rischiano di non avere più un lavoro alla Berco e alla Regal Rexnord. Prima la multinazionale statunitense che produce componenti per le pale eoliche che vuole esportare la produzione in Cina e in India chiudendo lo stabilimento di Masitorello. Poi la ThyssenKrupp, azienda tedesca proprietaria di Berco, leader mondiale nella produzione di sottocarri cingolati che avanza un piano esuberi a Copparo e nell'altro stabilimento di Castelfranco Veneto causati questi a dire dalla direzione dal contesto globale. Licenziamenti definiti inaccettabili dall'assessore regionale dell'Emilia Romagna Vincenzo Colla coinvolto dai sindacati che stanno seguendo le vertenze. Dopo la fumata nera di mercoledì in Confindustria a Ferrara, CGL e Cisle Will ora chiedono un tavolo regionale per la vertenza Regal Rexnord. Per Berco, la politica locale, attraverso la conferenza dei capigruppo e il sindaco Fabrizio Pagnoni ha deciso di convocare un consiglio straordinario monotematico indicativamente già lunedì sera alle 21 per far fronte comune a sostegno dei lavoratori. E dunque crisi del lavoro nel ferrarese, ma proprio di lavoro parliamo in un contesto completamente diverso perché il 27 e il 28 novembre si terrà a Ferrara Work on Work, la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro. Di che cosa si tratta? Lo vediamo dunque in questo servizio. Oltre 100 aziende che creano valore nel mondo del lavoro, 6 aree tematiche, più di 5.000 studenti universitari attesi sono i numeri di Work on Work, la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, che si terrà il 27 e 28 novembre a Ferrara nel quartiere feristico. Istituzioni, imprese, università e società di servizi per il lavoro, la formazione e l'orientamento si confronteranno per due giorni, dando vita a incontri, presentazioni aziendali, appuntamenti e aggiornamenti per creare, è stato detto, e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento. Work on Work ha ricevuto il sostegno da parte del comune di Ferrara oltre che tra gli altri di CNA, un'opportunità preziosa non solo per il territorio, ma anche per l'Università di Ferrara, ha dichiarato Alan Fabri, sindaco della città. Durante la fiera si svolgerà poi la Ferrara Job Week, con cui la città si attiverà con iniziative collaterali, volte a facilitare l'orientamento, la formazione e le opportunità di impiego. E adesso invece cambiamo argomento perché è stata inaugurata la nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Ferrara, la nuova struttura in piazza municipale, è intitolata all'appuntato Giuseppe Vassallo, un carabiniere che perse la vita durante le sanguinose rappresaglie del dopoguerra il 9 maggio del 1945. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il prefetto Massimo Marchesiello, il comandante provinciale dei Carabinieri Alessandro Di Stefano e poi ancora l'assessore comunale alla sicurezza Nicola Lodi e il comandante della polizia locale Claudio Rimondi, insieme a rappresentanti delle forze armate, delle forze di polizia e una delegazione di studenti delle scuole medie Bonatti. E adesso invece ci occupiamo di sanità, è una patologia cronica che può essere curata sia conservativamente sia intervenendo chirurgicamente. È la coxoartrosi o più comunemente artrosi dell'anca. Ne soffrono maggiormente gli adulti e gli anziani con un conseguente peggioramento della qualità della vita causato dal dolore. Di questo e delle tecniche di protesizzazione si parlerà nella nuova puntata di Sanità Benessere Oggi insieme al professor Leo Massari, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara. Ricordiamo appuntamento che andrà in onda questo venerdì alle 21.30 su TeleStense, ma intanto ne vediamo un'anticipazione. L'intervento chirurgico che si fa normalmente dappertutto per quanto riguarda le problematiche artrosiche dell'anca è la protesi, la protesizzazione dell'anca. Quello ormai è un dato assodato, non abbiamo alternative, cioè non ci sono altre cose. Poi dopo ci sono tante tipologie di protesi, tanti tipi diversi, tante misure, tante forme diverse di protesi, ma il concetto è quello di sostituire la decorazione dell'anca con una protesi. Quindi una parte che va inserita a livello del bacino, che è la coppa acetabolare, una parte che viene inserita a livello del femore, che è lo stelo, che si articola tramite una testina, si articola con questa coppa acetabolare e crea una nuova articolazione dell'anca. Quello che consiglio al paziente è di non aspettare troppo. Sì, meglio intervenire, proprio per fare tanti anni. Se c'è l'indicazione giusta, il paziente giusto, non dico farlo da giovani perché non va bene, però non aspettare di essere troppo anziani per fare l'intervento. Perché vivere nel dolore, se si può vivere invece meglio. Esattamente. Chiaro che uno ha paura dell'intervento sempre, a prescindere. Però, insomma, poi passato quello step è tutto, diciamo, in discesa. Il post-operatorio, non dico il giorno dopo, però parlo, insomma, di una riabilitazione, di un rientro, di un ritorno alla normale vita quotidiana. Si può tornare a fare tutto? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Il post-operatorio ormai è molto rapido. In prima e seconda giornata post-operatorio il paziente viene seduto, messo in piedi addirittura, seduto in poltrona, preso in carico dei fisioterapisti e comincia a camminare e comincia la sua riabilitazione. Poi pian pianino riesce a riprendere a fare tutto. Ecco, noi abbiamo un pubblico particolarmente legato anche a Ferrara, ovviamente in Romagna, alla musica, al ballo, al divertimento. A questo pubblico che ci ascolta, possiamo dire che anche un'operazione di protesizzazione può far tornare nelle sale da ballo? Assolutamente sì. Casomai evitando movimenti estremi, ma assolutamente uno può, anzi, torna meglio perché non ha più dolore, quindi riesce a muoversi anche meglio. È chiaro che poi bisogna avere qualche piccola cortezza, ma assolutamente si può ritornare a ballare. E questo sicuramente poi fa tutto, insomma, parte della qualità della vita di cui parlavamo prima. Sì, è assolutamente fondamentale per il miglioramento della qualità della vita. Vi ricordo dunque Sanità e Benessere oggi, ogni venerdì alle 21.30 su Telestense, disponibile anche ovviamente in streaming su telestense.it. Ma adesso invece parliamo di musica. Ligabue, protagonista lunedì prossimo a Ferrara, al Teatro Comunale, per il tour dal titolo dedicato a noi. Un grande ritorno dunque per la nostra città, ma vediamo i particolari nel servizio. A 13 anni di distanza dall'ultima volta, quest'anno Luciano Ligabue è nel tour e nei teatri per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock and roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. 31 concerti in cui Ligabue ha scelto di proporre ogni sera una scaletta diversa in cui oltre alle perle nascoste della sua carriera non mancheranno le hit più amate. Dopo le due date zero nella sua correggio a Reggio Emilia, Ligabue torna in Emilia Romagna con cinque date, la prima lunedì 14 ottobre al Teatro Comunale di Ferrara, insieme a lui sul palco Federico Poggi Pollini che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzina al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primo genito di Luciano che per la prima volta è in tour dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell'album dedicato a noi. Parliamo dunque di camminata nastro rosa, salute e solidarietà e ottobre rosa come mese della prevenzione in cui torna una delle iniziative targate l'ILT più caratteristiche di questo periodo che fa proprio della prevenzione uno dei principi fondamentali per il mantenimento del benessere. Domenica 13 ottobre alle 9.30 scatta l'ottava edizione della camminata del nastro rosa, manifestazione che beneficia del patrocino dell'assessorato alle politiche sociosanitarie del comune di Ferrara. Il percorso di 8 km alla portata di tutti si snoderà a partire dalla Porta degli Angeli, nota come Casa del Boia dove sarà allestito il punto di iscrizione che sarà attivo a partire dalle 8.30. I primi 350 partecipanti riceveranno in omaggio un gadget dedicato alla manifestazione. Scopo della giornata è favorire la conoscenza su quanto sia fondamentale adottare uno stile di vita sano i cui benefici hanno ricadute positive sulla salute dei muscoli e delle ossa con minor rischio di osteoporosi, fragilità ossea e soprattutto a contrasto della sedentarietà che rappresenta un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, diabete, obesità e tumori. Praticare attività fisica per 30 minuti è una delle prime forme di prevenzione. L'iscrizione alla camminata è ad offerta libera con un contributo minimo di 5 euro che sarà destinato alle iniziative benefiche della Lint. Per cui ripetiamo ancora, domenica 13 ottobre 9.30 con Camminata del Nastro Rosa. Adesso invece parliamo ancora di musica perché prende il via la nuova stagione di tutte le direzioni in full time del Gruppo dei Dieci. Il direttore artistico Alessandro Mistri ci ha anticipato quello che sarà il primo appuntamento. Siamo con Alessandro Mistri, direttore artistico del Gruppo dei Dieci. Prende il via tutte le direzioni, questa volta in versione full, quindi autunnale. Primo appuntamento questo venerdì. Che cosa aspettarci appunto questa settimana? Beh, come ho già avuto occasione di dire proprio a questi microfoni, siamo molto orgogliosi di questa stagione autunnale, un po' invernale, che abbiamo messo in piedi. E devo dire che questo, il primo concerto, secondo me è una delle punte di diamante. Non c'è una punta di diamante. Per me sono tutte punte di diamante, non perché sono miei figli, diciamo, i concerti, ma perché questo è veramente un concerto da non perdere in assoluto. Abbiamo due musicisti come Simone Zanchini alla Fisarmonica e Gabriele Mirabassi a Clarinetto, che da tempo formano un duo non solo affietatissimo, ma sono due grandissimi virtuosi che però non usano il virtuosismo fine a se stesso, ma per creare della grande musica che spazia dal jazz, alla musica sudamericana, al tango, ad altre ispirazioni, alla musica classica. È un concerto da ascoltare dalla prima nota all'ultima e poterlo fare in un bel posto come lo Spirito per poche persone, perché il contenitore è quello che è, credo che sia un privilegio assoluto. Quei concerti che si dice peccato non esserci stato, allora dico a tutti, piuttosto che dire peccato non esserci stato, venite ad ascoltare e sentirete una cosa meravigliosa. Allora, quindi si comincia questo venerdì e poi insomma questo preludio poi di una stagione che andrà avanti per diversi mesi. Beh sì, subito la settimana dopo abbiamo anche il piacere di ospitare un grande nome, oltre che un grande musicista, cioè Giacetta L'Esforo, che viene con il suo sestetto e poi ci saranno tanti altri appuntamenti come già abbiamo annunciato e come grazie a voi annunceremo anche volta per volta. Mi preme dire una cosa che dato che la formula solita è quella della cena e poi finita la cena incomincia il concerto, quest'anno proprio per favorire anche la presenza dei giovani di fronte a della musica di alto livello, e sono sicuro di poter dire questo, sarà possibile anche venire dopo cena con un semplice ticket per una bibita, per bere quello che vogliono e ascoltare soprattutto il concerto. Non solo musica ma anche cibo nel fine settimana, partiamo parlando soprattutto dell'iniziativa presentata alla stampa in Sala Razzi in residenza municipale, ovvero la manifestazione Il Cibo è Chilo Fa, in programma dall'11 al 13 ottobre in piazza Trento Trieste, promossa dalla strada dei vini e dei sapori. Ventesima edizione della tre giorni enogastronomica con oltre 40 espositori locali, regionali e nazionali. La manifestazione rappresenta un'importante occasione per scoprire e degustare le eccellenze italiane direttamente dalla voce dei produttori, e l'apertura ufficiale è proprio questo venerdì, a partire dalle ore 10. E parliamo anche di Cappellacci in centro, il tema dell'iniziativa in programma per quattro fine settimana, dal lunedì al pranzo della domenica dell'11 ottobre fino al 3 novembre, organizzata dalla contrada di Santa Maria in Vado in via Cammello a Ferrara. Con questa iniziativa la contrada vuole celebrare il piatto tipico ferrarese. Ricordiamo che l'iniziativa è gestita dai volontari della contrada, col patrocinio del Comune e della Fondazione Paglio Città di Ferrara, e ricordiamo che sarà disponibile nelle serate del venerdì e del sabato sera. E tra gli sponsor dell'iniziativa c'è anche l'Avis. Adesso invece torniamo a occuparci di un programma di casa nostra, detto tra noi, che torna su Telestense. Ospiti del talk show tra gli altri saranno Enrico Lionello e Silvia Cesari dell'autosalone Cavour che hanno dato il via all'iniziativa chiamata Eccellenze creative nel corso dell'ultimo Ferrara Film Festival. Ne stiamo un estratto per capire di che cosa si tratta. Come tutte le cose belle nascono da delle coincidenze, delle casualità. E quando Maximilian Loh, direttore artistico del Ferrara Film Festival, è venuto a trovarci, ci ha proposto di diventare sponsor del Film Festival. E inizialmente non lo conoscevamo, è la nonna edizione, ma non lo conoscevamo. Allora ci siamo detti, ci stiamo, ma come nel nostro stile, nel percorso che stiamo facendo negli ultimi tempi, abbiamo voluto anche lasciare qualcosa di nostro. E quindi c'è venuta quest'idea di creare questo format di eccellenze creative, in cui abbiamo raccontato storie, incontrato persone, e abbiamo voluto mettere a terra alcuni valori che ci rappresentano. Grazie ovviamente al supporto, poi lo vedremo, di Masda Italia e grazie al supporto ovviamente anche del titolare che ha creduto, in particolare anche in Silvia, in questo progetto che è stato complicato, ma molto molto bello. Allora Silvia, vediamo anche Silvia Cesare, come è stata vissuta questa esperienza? Sì, come diceva Enrico, diciamo Enrico parte trascina e poi dopo l'azienda sostiene il progetto. E ci abbiamo creduto fin da subito, perché intendiamo la presenza dell'azienda nel territorio come la possibilità di fare qualcosa per il territorio, perché ci deve essere uno scambio, ovviamente noi siamo un'azienda commerciale, vendiamo macchine, ma questo si può fare solo se il territorio è un territorio che sta bene. e noi vogliamo contribuire a questo benessere del posto in cui siamo. E quindi per noi il Ferrara Film Festival è stata una buonissima occasione e le eccellenze creative hanno proprio sposato quelli che sono i nostri valori che cerchiamo di mettere in atto e a terra tutti i giorni. e a me piace ricordare come pensiero di questa iniziativa una famosa frase che è l'essenziale è invisibile agli occhi e per noi è stato proprio così, cioè al di là del lavoro anche fisico che è stato fatto in questa iniziativa si è proprio visto quello che c'è dietro delle persone che hanno ruoli diversi all'interno della città, artigiani, influencer eccetera che però dietro hanno qualcosa di veramente importante una componente essenziale della loro professione ma anche proprio della loro storia personale. E vi ricordo che è detto tra noi non da il giovedì sera alle 21.30 su Telestense in replica la domenica ma ovviamente è disponibile anche sul canale YouTube di Telestense. Adesso invece parliamo di una bella iniziativa perché torna il 12 ottobre Dona la spesa iniziativa di Copp Alleanza 3.0 per raccogliere cibo e beni di prima necessità da distribuire a chi ne ha bisogno con l'aiuto di oltre 300 realtà locali di volontariato e solidarietà locali perché l'obiettivo è che le donazioni restino nel territorio dove sono state fatte. Saranno oltre 300 gli ipercop e i punti vendita di Copp Alleanza 3.0 coinvolti dalla Friuli Venezia Giulia fino alla Puglia. Volontari con la pettorina di Dona la spesa distribuiranno a chi arriva a fare la spesa un volantino con elenco di prodotti da acquistare e le borse dove metterli. Si va da olio, tonno e legumi in scatola farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione pasta e riso, alimenti a lunga conservazione fino ad articoli per l'igiene della persona e della casa e per l'infanzia. Sarà possibile anche donare online fino al 27 ottobre dove è attivo EasyCopy, il servizio di spesa via web e in questo caso le donazioni andranno alla comunità Papa Giovanni XXIII. Con la raccolta dello scorso maggio sono state recuperate oltre 180 tonnellate di prodotti distribuite a 350 associazioni e realtà locali. Adesso invece cambiamo argomento apriamo la pagina dedicata allo sport basket, campionato interregionale, Ferrara Basket 2018 ancora vittoriosa nel turno infrasettimanale i ferraresi che hanno vinto in volata a Padova per 63 a 62. E allora sentiamo le considerazioni di coach Benedetto a fine gara. In trasferta non sarà mai facile vincere le partite non abbiamo fatto la seconda partita in trasferta su tre sapevamo che Padova è comunque una squadra rognosa difficile da affrontare probabilmente abbiamo fatto qualche piccolo errore ma a merito anche dei nostri avversari che ci hanno tolto la fluidità che avevamo nei primi due quarti giocando in una zona che è un po' particolare e noi lì ci siamo un po' incastrati quindi abbiamo avuto meno fluidità in attacco e in difesa abbiamo subito un po' troppo. Però forse l'errore maggiore che è stato il vantaggio che non siamo riusciti a gestire neanche dal quarto quarto l'abbiamo fatto riavvicinare la partita è cambiata di inerzia e poi alla fine sbaglio i quattro tiri liberi perdi due palloni però fanno bene anche queste partite qui saranno queste le partite da vincere quando proprio le cose non ti vanno bene e quando hai un infortunio così importante come quello di Bellappi ci auguriamo che l'infortunio sia diciamo che possa recuperare più in fretta possibile ma secondo me ci mancherà per parecchio perché le sensazioni del ragazzo non sono buone quindi quelli sono il primo impatto è quello che tu sai bene che poi alla fine è il risultato più importante sapere cosa il ragazzo si sente quindi vabbè non è importante nel senso che anche oggi abbiamo giocato comunque una partita senza di lui in un campo difficile, una buona squadra e siamo riusciti a portarlo a casa andiamo avanti così sono l'idea che aspetteremo Bellappi cercheremo di essere forti ugualmente di andare avanti nonostante la sua assenza nelle prossime partite e questo era il nostro ultimo servizio vi ricordo Telesensi.it e i canali social per questi e ulteriori aggiornamenti grazie dunque per averci seguito l'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti